Il Del Mauro si prepara al ritorno della Scandone. Questa sera i Lupi faranno il proprio sordio davanti al pubblico amico dopo aver vinto la prima sul campo di Brindisi, offrendo anche una prestazione importante. Una prova di assoluto livello che ha fatto capire che Avellino in questa stagione può ricoprire il ruolo di outsider alle spalle di Monopoli e Salerno. I ragazzi di San Filippo questa sera sfideranno Adriabari alle 20. Il successo alla prima ha riacceso la miccia dell'entusiasmo intorno al gruppo e le porte aperte con ingresso gratuito potrebbero anche regalare la giusta cornice per questo debutto. Avellino proverà a sfruttare l'agilità dei lunghi cianci e pichi, sfruttando anche Mazzagatti, senza dimenticare che questa sera ci sarà una freccia in più nell'arco di San Filippo, l'argentino Sanchez. Nel frattempo la Scandoni, in occasione del primo impegno casalingo, ha deciso di sostenere la causa del giovane Raffaele Baldares. Tutto il devoluto servirà a supportare Raffaele nei dispendiosi viaggi e sessioni di cura a Miami. Per sensibilizzare tutti i diffusi a questa iniziativa così importante, la squadra bianco-verde indosserà un coprimaglia con la scritta AS di Scandone per Raffaele. La sfida di questa sera sarà trasmessa in tv in diretta e sui canali social di Sport Channel 214. Grazie. Grazie.